Nel corso mi è piaciuto perché è stato un momento di condivisione, di alleanza, di ritrovare noi stessi e andare a sciogliere tutte le paure limitanti, affrontarle poi anche col buio, quindi proprio vivere nel buio totale proprio le nostre paure. Mi porto a casa la magia della vita perché appunto in questo corso ho ritrovato la magia della vita, quindi so chiaramente che devo fare ancora un po' di lavoro su me stessa, però il grosso si è sbloccato. Grazie Patrizia, grazie tantissimo.